Ciao a tutti da Aito, in questo video vi farò vedere come configurare EPSXE 1.7 che sarebbe un'immunità di Playstation 1 e PSX per computer. Ora, scarichiamo l'archivio allegato che vi metterò nella descrizione e avviamo il file EPSXE.exe, uscirà una cosa del genere, dovrebbe uscire teoricamente la prima volta configurazione automatica. Se non esce, possiamo fare wizard-config, wizard-config, mettiamo e uscirà questa finestrella. Andiamo avanti, quindi facciamo config, come BIOS uscigliamo uno a piacere, non ha nessuna differenza. Mettiamo il PayTopenGL driver e facciamo config, e scegliamo se metterlo in fullscreen mode o in windows mode, io lo metto in windows mode, perché sennò non posso farvi vedere il video. Ok, andiamo avanti. Mettiamo il driver audio, posso mettere sia quello di EPSXE oppure questo di PETE, io preferisco mettere quello di EPSXE. il driver cdrom, mettiamo il secondo, quello sempre di EPSXE. Poi adesso dobbiamo configurare il controller. Io ora configuro velocemente il controller un po' comodità. mi trovo abbastanza bene così, sinceramente. Dovevo mettere... Io preferisco tenerlo così il cosmo, non vi so spiegare bene il perché. L'ho sempre tenuto cazzo. Premo start e mi risetta tutto. Quindi lo posso mettere in via come start. Vuol dire che mi metterò spazio per select per colmettro 0, di un po'. C'è ok. Andiamo avanti. Allora finiamo configurazione adesso, io l'ho da cdrom. Cliccamento ecco. Parte si vede. Bello. Bellissimo il gioco eh. Il filmato iniziale è fantastico. Ho fatto già un casino di punti. Vabbè abbiamo capito. Da qua non va. Provo ehm tanto per vedere se ehm estraendo l'iso dal cd funziona oppure scaricando un'altra isola. Ehm no mi è successo un grandissimo bug. Cioè ho fatto un altro epic fail un minuto soltanto che giusto questo bug che mi è successo e poi dopo vi mi è successo. Eccomi di nuovo. Risolto il mio problema. Ho scaricato un'isola, l'ho messo qua dentro. E come vedete va. Minuto solo. Vedete? Funziona perfettamente. Vi l'ho avviato in modalità finestra. Per farvi vedere anche a voi se no avrebbe avuto dei problemi. questo è Tom B2. Qualcuno di sicuro lo conoscerà. Fantastico gioco secondo me per PlayStation 1. e niente questo è tutto praticamente. Come vedete funziona è anche italiano. Metterò quindi il download dell'emulatore e vi dico già che ho intenzione di fare un let's play di Tom B2. Su come sbloccare anche tutti gli obiettivi. Cioè tutte le missioni che ci sono nel gioco. Quindi per adesso è tutto. Vi lascio alla prossima da Reito. Grazie. Grazie a tutti.